Una donna è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, mentre altre due persone sono state condotte al San Giovanni di Dio di Agrigento. I tre sono rimasti feriti ieri pomeriggio in un incidente stradale che ha coinvolto tre auto lungo la strada statale 118, nota come Corleonese Agrigentina, all'altezza del chilometro 142-900, nel territorio di Iopolo Giancazio, in provincia di Agrigento.